eh ragazzi se io tocco il pallo eh se io tocco lo skateboard che è in là non lo posso fare vedere ora non lo posso fare vedere perchè sono in un posto uno skateboard con la palla vi dovete scrivere se non lo tocco dovete lasciare like ok andiamo vi faccio vedere anche skateboard ora ok guardate che c'è anche quello da basket aspetta un attimo si caccia un po' va be lasciamo così questo skateboard se lo tocco con la palla ho vinto vi dovete scrivere cerco di toccare lo skateboard se lo tocco dovete scrivere al canale l'ho toccato l'ho toccato l'ho toccato vabbè non l'avete visto lo facciamo di nuovo aspetta avete visto il regalo ho toccato ora vi dovete scrivere al canale forza italia allora Grazie.